Se potete fare silenzio così cominciamo, grazie. Buongiorno, benvenuti a tutti. Io sono Giovanni Pascuzzi e sono qui presente, poi dirò qualcosa a titolo personale, ma per portare il saluto innanzitutto dei vertici accademici della nostra università che ospita questo evento. La professoressa D'Area De Pretis, la nostra nuova rettrice, il professor Giuseppe Nesi, avrebbero dovuto essere qui, ma impegni dell'ultimo momento li vedono impegnati altrove e quindi tocca a me e con molto piacere porgo anche il loro saluto. Il saluto che va in... sono tantissimi presenti, il colpo d'occhio da qui è notevole e anche l'altra sala è piena e quindi è la prova evidente dell'interesse per questa iniziativa. e saluto innanzitutto le autorità intervenute, quali esponenti delle categorie interessate, subito dopo di me ci saranno i saluti di alcuni appunto delle rappresentanti di queste categorie. Voglio ringraziare la casa editrice Già Pichelli che ha contribuito a questo evento e l'Accademia della Montagna che ha dato il patrocinio. E inoltre ringrazio anche il personale della nostra facoltà, come al solito molto efficace e puntuale nel curare l'evento. Devo anche comunicarvi che rispetto al programma che vi è stato consegnato e che è stato diffuso ci sono delle piccole modifiche per ragioni familiari in particolare e non potranno essere presenti il professor Fornazzari e il dottor Adilardi. Si scusano con i presenti ma hanno avuto problemi personali e non posso essere qui. Qui alla mia sinistra c'è il professor Umberto Izzo che ha organizzato l'evento e che farà da coordinatore del medesimo e a questo proposito voglio dire che egli è l'animatore sin dal 2006, nel senso che lo ha attivato e poi lo sta portando avanti, un corso elettivo dedicato, che si tiene presso la nostra facoltà, dedicato al diritto degli sport di montagna che il professor Umberto Izzo tiene per la parte civile insieme a Stefania Rossi per la parte penale. Ed è un corso che ha crescente successo ed è uno dei tanti piccoli esempi del rapporto che esiste al di là di quello che poi magari si legge sui giornali, che concretamente esiste tra l'università di Trento e il territorio che la ospita. L'ultima notazione che voglio fare è a titolo personale, oggi vedo con piacere l'evolversi in maniera così significativa di un'iniziativa che abbiamo preso tanti anni fa, sempre con il professor Umberto Izzo, nel lontano 2002, ma è più di dieci anni fa, insieme all'Associazione Roveretana per la Giustizia e qui sono presenti alcuni rappresentanti che all'epoca avevano anche, come dire, posizioni di vertice in quell'associazione, una piccola iniziativa, una culturale, una ricerca giurisprudenziale sulla responsabilità sciistica. E quella ricerca esitò in un volume pubblicato anche esso per Già Pichelli appunto una decina d'anni fa e oggi un po' questo convegno è l'evoluzione di quella iniziativa, ovviamente in maniera molto più approfondita. E questo per me appunto che all'epoca collaborai a questa cosa in prima persona ed era direttore di dipartimento e quindi diedi il via a quell'iniziativa rappresenta un piccolo motivo di orgoglio. Quindi do di nuovo il benvenuto a tutti voi, il ringraziamento a Umberto Izzo e seguiamo, sentiamo adesso i rappresentanti delle istituzioni che portano i saluti. Comincerei dall'avvocato Patrizia Corona che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento. Prego. Io ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questo evento per aver voluto invitare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento. Porto sempre con grande piacere il saluto del Consiglio che rinsalda anche in questo settore quelli che sono i rapporti fra il Foro e l'Accademia e che nel futuro diventeranno sempre più pregnanti vista le previsioni della nuova norma contenuta nella nuova legge professionale. Il tema di oggi è un tema che riguarda direttamente il mondo forense. Viviamo in un territorio sotto questo profilo ritengo particolarmente esposto alla problematica della responsabilità soprattutto in montagna. La nostra giurisprudenza, quella dei nostri giudici di merito, credo abbia il compito di seguire, di dare le linee guida, non dico a livello nazionale, ma sicuramente delle linee guida significative nella materia. Materia che si coniuga in maniera particolare con la società perché il tema della responsabilità credo che sia sentito e lo vediamo dalle cronache dei giornali, i concetti di, purtroppo lo leggiamo nelle cronache dei giornali, quando ci riportano gli eventi luttuosi che accadono sulle nostre montagne, spesso dovuti a quella imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, anche se nella materia credo sentiremo di che cosa si tratta. E quindi c'è un modo di coniugare quelle che sono le indicazioni della giurisprudenza con quella che deve essere la sensibilità nell'opinione pubblica. Quindi un tema che è non soltanto tecnico e forense, ma che riguarda la collettività in una settimana particolare come questa che è dedicata alla montagna con il Film Festival e quindi particolarmente azzeccato anche il momento in cui questo convegno si svolge. Non vi rubo altro tempo, auguro a tutti un buon lavoro e un ringraziamento ancora al professor Rizzo per questo invito. Grazie. Adesso la parola è Egidio Bonapace, presidente dell'Accademia della Montagna di Trento. Prego. Grazie e benvenuto a tutti. L'Accademia della Montagna è orgogliosa di aver collaborato con il professor Rizzo perché l'Accademia della Montagna, come sapete, è nata da poco, è una fondazione che racchiude la formazione di tutte le professioni della montagna, maestri, sigui, dalpine, gestori di rifugi, accompagnatori di territorio, che vuole posizionare la montagna trentina e la montagna in generale alle nuove generazioni in modo di portare conoscenza della montagna. Perché l'Accademia della Montagna, e questo è un mio pensiero personale come uomo di montagna, non esiste montagna con pericolo zero e la montagna deve assolutamente essere libera. Non si può regolamontare la montagna. Ci sono delle regole di condotta, ma non sono tanto le regole che vengono messe a punto dalle organizzazioni piuttosto che dai funzionari. Cioè queste vanno bene su comportamenti, ma l'importante è la conoscenza, perché se noi regolamentiamo tutta la montagna non riusciamo più a frequentarla, non riusciamo più a goderne. Bisogna entrare nell'ordine di idee che non si può andare in montagna convinti che in montagna non ci sia pericolo. Situazioni di pericolo esistono sempre e secondo me è impossibile regolamentarle. Se no faremo morire la montagna in generale. È solo attraverso la formazione dei professionisti e la conoscenza nelle scuole e i ragazzi che possiamo far conoscere quali sono i pericoli della montagna e che la montagna ha passioni e non sia sempre la montagna assassina che leggiamo. Grazie e buon lavoro. Adesso la parola all'Avvocato Vincenzo Torti, Vicepresidente del CAI. Prego. Dunque, la presenza del Club Alpino Italiano, a parte che in questi giorni con il Film Festival da tutte le parti avete visto che celebriamo i 150 anni di storia. Ecco, mi aggancio a questo per dire come il Club Alpino Italiano si inserisce in una tematica come quella odierna. Montagna e responsabilità. In realtà il rapporto dell'uomo con la montagna nasce con la totale accettazione del rischio. A nessun alpinista della storia dei primi 100-120 anni dell'alpinismo sarebbe mai venuto in mente di andare a cercare un responsabile. Perché allora oggi siamo grati di questo studio, di questi approfondimenti che poi saranno oggetto degli autorevoli interventi di oggi tra i quali consentitemi oltre a quelli dei professori Izzo, Lenti anche quello del past president generale del CAI, Annibale Salsa tutti volti a riverificare come oggi vadano a declinarsi i rapporti tra la montagna e la responsabilità. Ecco, in mezzo a questi due termini il Club Alpino Italiano cerca ancora di costruire quello che non a caso è stato evidenziato adesso dall'amico Buonapace e cioè non togliamo alla montagna la sua componente positiva che è quella di provare l'emozione, il rischio. Ecco, il rischio è qualcosa di cui si deve sempre parlare anche in ambiti giuridici. L'accettazione del rischio non va mai dimenticata perché altrimenti cadiamo nella deriva della responsabilità ad ogni costo. Avremo alpinisti, sciatori, escursionisti totalmente deresponsabilizzati avviati verso una responsabilità oggettiva quando non con questa estensione del concetto di contatto sociale che già ha mietuto vittime in qualche sentenza anche di fori qui vicini ricordo il Tribunale di Venezia tra questi dove alla fine è vero che da un lato c'è la tutela dell'integrità fisica della persona ma sull'altro piatto della bilancia c'è sicuramente qualcosa di altrettanto importante che è il come vivere la dimensione della montagna e quindi come esprimere l'essere uomini anche a contatto con questo ambiente. Io ringrazio nuovamente gli organizzatori di questo convegno perché è per la realizzazione di questo volume che ho avuto modo di sfogliare che è ricco di spunti e di riflessioni che vengono da lontano e che certamente aiuteranno ciascuno di noi operatori vuoi nella veste di difensori vuoi nella veste di interpreti chiamati a giudicare il singolo fatto a dare una chiave interpretativa che non dimentichi questi aspetti e cioè che tutto sommato a ognuno di noi deve continuare a piacere quando andiamo in montagna in qualunque modo ci andiamo mantenere sulle spalle anche una buona dose di rischio perché è un piacere allo Stato puro. Grazie, adesso ascoltiamo Martino Peterlongo che è il Presidente del Collegio delle Guide Alpine di Trenuto. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito io sono qui in veste di sostituto di Martino sono Vice Presidente del Collegio delle Guide Alpine del Trentino è un'iniziativa veramente di grande pregio questa qua specialmente per il nostro lavoro per il campo d'azione del nostro lavoro per cui noi siamo con le orecchie ben aperte per ascoltare tutti i punti ascoltare bene come può svolgersi e come potrà essere giudicato il nostro lavoro la nostra funzione è quella di insegnare di insegnare dalle scuole dai bambini più piccoli agli adulti come comportarsi, come muoversi in montagna speriamo che non ci mettano i parli tra le ruote e ci facciano cambiare lavoro grazie a tutti, buona continuazione grazie adesso ascoltiamo Mario Panizza lei è Mario Panizza? no scherzo Presidente del Collegio dei Maestri di Sci di Trento buon pomeriggio a tutti sono Marco Villotti sono un rappresentante del Collegio dei Maestri di Sci di Trentino in relazio a quel che ha detto Matteo Faletti anche noi siamo dei professionisti della montagna facciamo parte della stessa legge che disciplina le professioni della montagna con Maestri di Sci di Alpine accompagnatori di territorio un mondo che nel piccolo mondo nostro che sono più di 2500 professionisti che operano costantemente in montagna è un'attività sicuramente diciamo che catalizza su di noi tantissime responsabilità perché noi lo facciamo dal punto di vista proprio professionale diventa una professione e quindi il fatto di avere un'attenzione da parte tipo in un convegno come questo e in altre iniziative che sono state fatte anche nel recente passato e porre l'attenzione sulla responsabilità la responsabilità in montagna per noi è una situazione sicuramente favorevole è una cosa che vediamo sicuramente come un'opportunità l'importante è che dopo le responsabilità non cadano troppo sulle nostre teste nel senso che stiamo lavorando e specialmente come Collegio dei Maestri di Sci stiamo facendo un lavoro che va avanti da più anni proprio per limitare il più possibile il rischio, l'infortunio e quindi la conseguente responsabilità che hanno i nostri professionisti con tutta una serie di situazioni che si cerca di codificare di fare un sistema proprio di gestione del rischio scistico nel nostro caso che però non è semplicissimo da fare nonostante tutto e con i numeri che portiamo e che riusciamo a svolgere durante l'inverno ritengo che i risultati siano comunque soddisfacenti nel senso che noi nell'arco di una stagione si stabilizzano circa 500 segnalazioni di infortunio di allievi che sono con i Maestri di Sci ma solo una piccola parte inferiore al 10% intorno a 40-45 segnalazioni poi vanno avanti con delle richieste di risarcimento quindi con una richiesta di intervento sia di risarcimento risarcitoria o penale se c'è una querela quindi i numeri nonostante tutto sono abbastanza contenuti considerando che portiamo a sciare circa più di 700.000 persone con la presenza nell'arco di una stagione e quindi su questi grandi numeri e considerando il rischio che pone questa attività non sono ancora accettabili il rischio dell'infortunio se si vuole forse è un paradosso dire che ci sia accettabile non sarebbe mai accettabile specialmente come sono le tendenze delle recenti della giurisprudenza che vede più un servizio che diamo ai nostri allievi e non un'attività professionale e quindi le attività di servizio non prevedono l'esistenza di un rischio di infortunio ma questa è una situazione che forse è la cosa che ci mette un pochino più in difficoltà e che si vede insomma di riuscire a superare magari in altra maniera insomma per far questo abbiamo fatto proprio degli incontri molto importanti se con le forze di polizia di Moena proprio per capire lavorare insieme per codificare un pochino meglio la gestione del rischio e in più lavorando proprio sempre con un legale sempre al nostro fianco e anche portando sul campo dei giudici del Tribunale di Trento e di Roveretto siamo riusciti a far capire un tantino meglio di quali sono le reali difficoltà e più che difficoltà diciamo situazioni oggettive di rischio che esistono nella gestione del nostro lavoro e quindi la strada che stiamo percorrendo ritengo che sia positiva per riuscire a migliorare e trovare delle situazioni che anche giurisprudenza potranno sfociare in qualcosa di maggiormente positivo e tutelante e garantista per la nostra professione ecco questo è quanto io vi ringrazio a nome di tutto il consiglio direttivo del Collegio dei Maestri di Sci e vi auguro un buon lavoro adesso la parola al presidente dell'ANEF di Confindustria Trento posso pronunciare il nome dottoressa Valeria Ghezzi no per evitare buongiorno a tutti io porto innanzitutto il saluto di tutti i funiviari trentini e porto veramente un ringraziamento da parte dei funiviari per agli organizzatori di questa iniziativa iniziativa che per noi ha sicuramente un grande significato perché il tema è un tema a cui siamo estremamente sensibili molto molto importante importante al punto che con alcuni avvocati del foro di Trento alcuni anni or sono noi avevamo elaborato un progetto di revisione della legge di settore che è la legge 7 della provincia autonoma di Trento 787 in materia proprio di sicurezza sulle piste da sci perché il tema della responsabilità per noi è legato principalmente alla sicurezza sulle piste direi decisamente di più che non alla sicurezza sugli impianti dove le norme forse sono più stringenti più chiare più definite per tutti sul trasporto purtroppo questa normativa non andò avanti ma il tema per noi resta un tema fondamentale anche perché purtroppo è un tema che è tutt'altro che definito nella nostra attività per quanto noi cerchiamo con investimenti anche ingenti di garantire la sicurezza la sicurezza appunto perché la sicurezza assoluta non ci sarà mai a volte restiamo nell'incertezza più totale ci sono concetti che giuridicamente a noi non sono chiari ma io penso anche che non siano definiti il pericolo tipico il pericolo atipico il bordo pista che è un concetto non è una nozione giuridica ancora per noi questo ci porta a trovarci in situazioni poi di causa quindi di contenzioso che nelle quali ci mettiamo nelle mani di Dio veramente e questo più questo tema viene affrontato e viene definito e mi permetto di dire dal nostro punto di vista a noi piacerebbero poche regole e molto chiare perché la selva delle norme porta confusione e più questo ci aiuta a gestire bene anche perché il tema per darvi un'idea del livello probabilmente di incertezza che c'è in Italia io ho portato tempo non tanto tempo fa alcuni collaboratori a fare la classica gita aziendale in Austria e in Svizzera siamo tornati e un mio collaboratore mi dice signora sarei disoccupato io se fossimo in Austria e in Svizzera perché non c'è un materasso non c'è una rete c'è qualche cartello tutto è molto meno definito che da noi però noi ancora non sappiamo quali sono le norme e fino a che punto le dobbiamo rispettare questo per noi è un tema quindi che ha assoluto necessità di approfondimento e nello stesso tempo anche di semplificazione io veramente mi auguro che questo genere di incontri questi convegni aiuti ad andare in questa direzione nello stesso tempo prima è stato detto la montagna è libertà ecco io vorrei dire la sicurezza assoluta non esisterà mai e chi pratica un'attività sportiva deve comunque e sempre accollarsi un margine di rischio questo vale anche per lo sci su pista battuta questo direi che questi sono i concetti base della nostra attività io ringrazio tutti quanti ancora spero che anche per noi questo convegno sarà molto utile grazie buon lavoro bene i saluti sono così terminati io ricordo soltanto che al termine delle relazioni delle diverse sessioni è previsto un dibattito quindi tutte le domande gli stimoli troveranno spazio alla fine del convegno adesso cedo il posto e la parola al professore Umberto Vizzo per entrare nel vivo dei lavori grazie bene e benvenuti sono molto lieto di vedere un'aula così piena oggi e so che ci sono altre persone per cui sembra che il tema abbia un suo seguito e del resto non poteva essere diversamente in una città come Trento che alle montagne circondate e dove evidentemente lo sport del turismo in montagna è il volano di una economia turistica che rappresenta una porzione molto rilevante della nostra dico vostra perché non sono trentino ma posso definirmi trentino d'adozione dopo 18 anni di vita a Trento e quindi grazie di essere ancora qui io è prevista quindi una vorrei brevemente sono qui seduto con gli altri curatori scientifici del trattato che vorrei brevemente presentare alla vostra attenzione con i colleghi il professor Fornasari che evidentemente ha dato la sua autorevole coordinamento scientifico sugli aspetti penalistici purtroppo come si è detto non è potuto essere presente oggi e vorrei quindi presentare contestualmente con questo trattato che assume una forma tripartita di cui adesso vi dirò meglio anche il sito www.dirittodellisportdelturismo.it che chi di voi è dotato di computer in stanza e grazie alla connessione wireless o anche con i cellulari può sicuramente divertirsi già da oggi e compulsare è stato appena reso pubblico un'avvertenza preliminare è un sito è un work in progress questo work in progress significa che questo sito lo abbiamo costruito idealmente riallacciandoci al trattato ma facendo leva su forze volontarie di alcuni fidatissimi collaboratori e preziosissimi collaboratori e in prima persona l'ho diciamo ideato io e quindi da questo punto di vista il lavoro è ancora di completamento abbiamo tanti materiali da riversarvi dentro e anche di questo vi parlerò comunque lasciamo scorrere dietro di noi il sito dunque il questo trattato nasce come diceva prima il professor Pascuzzi io ho cominciato a interessarmi di questo tema appunto facendo una ricerca con l'associazione robertana della giustizia nel 2003-2004 con il professor Pascuzzi quella ricerca comportò una ricerca in Trentino e presso tutti gli uffici giudiziali del Trentino e portammo letteralmente riportammo alla luce tanti precedenti che preziosi per la comprensione della materia che giacevano nelle cancellerie abbandonate degli uffici giudiziali del Trentino e pubblicammo come immagino molti di voi sapranno un volume sempre con Gian Pichelli nel 2006 appunto sulla responsabilità scistica anche con una analisi comparatistica l'interesse per il tema è poi continuato a essere diciamo un mio chiodo fisso e con come dire abbiamo continuato abbiamo avviato una iniziativa didattica che portiamo avanti diritto degli sport della montagna con la dottoressa Rossi appunto ricordata anche prima che ogni anno nel primo semestre viene tenuta qui con crescente successo presso la facoltà di giustizia di Trento e dal punto di vista diciamo abbiamo potuto poi allargare questa ricerca ci siamo resi conto che limitarsi allo sci rappresentava ovviamente anche perché quando si va in queste cancellerie si trovava di tutto si trovavano altri sport tipici della montagna e abbiamo piano piano avendo la possibilità di collaborare con anche la Camera la fondazione della Forense di Bolzano che ci affidò un compito di ricerca negli anni scorsi anche con l'avvocato Ballardini abbiamo che io ringrazio e saluto del foro di Rovereto avevamo portato avanti quella ricerca che poi comportò appunto sostanzialmente rifare lo stesso lavoro fatto a Trento e quindi abbiamo portato alla luce altre centinaia di sentenze civili e penali sui temi del diritto della montagna dopodiché sono stato anche in contatto con gli uffici di sedia a Osta ho fatto delle ricerche a Osta e sono andato anche lì a reperire molte sentenze insomma tutta questa grande massa di materiali ha poi portato all'elaborazione scientifica dei saggi che sono ospitati nel volume che è presentato oggi ma la cosa più sorprendente è che le cose iniziano con uno spunto poi non sai dove ti portano e nel cercare di valorizzare questo lavoro in maniera più degna possibile ho incontrato la persona del dottor Giuliano Giappichelli dopo aver consultato vari editori primari editori giuridici italiani il quale non solo ha colto entusiasticamente l'idea scientifica proposta nel trattato nel volume ma addirittura è stato lui per primo a propormi ma perché non facciamo un trattato sulla responsabilità civile e penale negli sport del turismo e lì per lì ero stato troppa grazia a Sant'Antonio si usa a dire in questi casi ma di lì in poi è successo l'incontro con il professor Morandi il professor Lenti era già con me nella iniziativa della montagna e abbiamo ideato questo trattato che apparirà con ritmi serrati ci aspettiamo per cui la riflessione da cui parte l'idea di creare se vogliamo una nuova partizione conoscitiva se vogliamo perché le cose le conosciamo ma se le riassembliamo attorno a nuovi neumeclatori possono assumere una nuova veste l'idea quindi di approfondire il diritto degli sport del turismo la responsabilità civile e penale è un modo più appetibile mi dicono gli editori per vendere poi la cosa a livello di professioni ma in realtà questo trattato muove da una riflessione il turismo è sempre più il volano del come dire che accompagna la fruizione turistica dei luoghi ovviamente in montagna ma anche evidentemente nei volumi che seguiranno che saranno destinati agli sport dell'aria e anche agli sport dell'acqua quindi sport dell'acqua quindi mare fiumi laghi quindi anche qui ci sarà un ritorno di interesse per il Trentino perché come sappiamo il lago di Garda la navigazione lacustre e tanti tanti aspetti che stiamo appunto in questo momento mettendo a posto con il professor Morandi il professor Lenti e il professor Fornasari verranno analizzati nei prossimi volumi che completeranno come dire questo trattato tripartito che già Pichelli appunto meritoriamente ha voluto promuovere dunque dicevo il nomenclatore il punto di partenza è questo il turismo è il volano di un fenomeno turistico che è ovviamente importantissimo sotto il profilo economico e evidentemente le regole giuridiche che regolamentano questi sport possono essere considerati come un modo per distribuire dei costi sociali che la condizione di questi sport evidentemente reca inevitabilmente con sé prima si parlava di sicurezza continueremo a parlare ebbene riflettere quindi in una dimensione che coniughi l'attenzione per il fenomeno più strettamente giuridico con il più ampio fenomeno economico considerando che il risarcimento del danno richiesto ai colleghi della dottoressa Ghezzi che prima appunto si affidava a Dio quando iniziava il giudizio diventa un costo sociale che viene traslato su un operatore economico il quale a sua volta evidentemente dovrà in qualche modo tener conto di questa posta negativa e ridistribuirla come poi gli esperti di analisi economica e diritto teorizzano da tanti anni sui consorciari sui propri i fruitori dei propri servizi cioè i consumatori cioè i turisti ora questi costi quindi aumentando diventano evidentemente fatalmente direi un aspetto che viene preso in considerazione dal turista quando si rivolge all'offerta guarda le mille offerte su internet e decide dove andare a sciare per esempio facciamo un discorso molto per a te non parliamo poi della unicità di certe attrazioni questo è un alpinismo che porta comunque a voler raggiungere certi luoghi ma per lo sci per una certa fetta del marketing del turismo adesso sta molto puntando sul fuori pista ma sicuramente diciamo questo aspetto viene considerato l'aspetto dei costi ora prima si ricordava l'Austria se in Austria al di là di altri fattori determinanti magari una settimana bianca può diventare economicamente vantaggiosa per il consumatore italiano che decide dove spendere i suoi pochi quattrini e a un certo punto le regole si determinano una sistematica riallocazione del costo in campo in Italia al gestore con l'aumento dei costi implicati per la vendita dei propri servizi in poche parole giornaliero lo stagionale che aumenta di costo evidentemente noi stiamo creando un cortocircuito che dobbiamo cercare di evitare ma mi fermo qui perché poi riprenderò questo tema nella parte della mia relazione voglio brevemente illustrarvi questo sito che sfrutta un po' l'idea del blog proprio perché è fatto in casa siamo poveri non abbiamo avuto nessun tipo di finanziamento nonostante qualche tentativo di richiesta anni fa ma alla fine abbiamo deciso di questo sito realizzato con i soldi di un finanziamento che ho ottenuto su altri filoni di ricerca una bravissima webmaster Mayra Eccel che ringrazio pubblicamente ha realizzato questo sistema che vedete qui alle mie spalle e come funziona sostanzialmente noi nel blog che ci permette di essere graduali nella creazione della base dei dati sono ospitate circa mille sentenze saranno a regime ospitate solo per la montagna circa mille sentenze provenienti da qualsiasi giurisdizione avremo anche poi dei canali evidentemente di faccio un esempio si creano c'è la possibilità di fare una ricerca esattamente come con Google quindi voi trovate le occorrenze proprio quindi potete sbizzarrirvi in base ai vostri casi specifici potete trovare la fattispecie più vicina a quelle che sono le vostre esigenze e parmi rivolgo qui agli operatori professionali ma credo che anche gli operatori professionali del diritto quindi giudici e avvocati presenti ma immagino che una fruizione di queste storie queste centinaia di storie che io ho letto nell'allestire questo sito dà una misura estremamente tangibile anche di come comportarsi agli operatori professionali evidentemente i maestri di sci le guide alpine e tutti gli operatori professionali della montagna i gestori dell'area sciabile e così via e quindi per esempio facendo una adesso ho paura di cliccare perché non so cosa venga fuori perché è stato un lavoro un lavoro veramente però ecco parliamo di contratto per la fruizione delle aree sciabili e qui voi trovate poi ci sono alcuni contributi di dottrina apro lo dico per inciso siamo felicissimi con tutti gli operatori presenti di ottenere copia di sentenze che magari siano sfuggite poi tenete presente che le ricerche si sono fermate al 2009 quindi se avete materiali siamo estremamente felici di valorizzare e di ringraziarvi anche pubblicamente per questa collaborazione siamo aperti leggerete poi insomma le nostre proposte però per esempio ecco qui capita l'avvocato Ballardini e quindi insomma davvero guarda per caso e abbiamo vedete la sentenza il tribunale di Rovereto eccetera eccetera giudice Perilli abbiamo riportato quindi siete protagonisti parlo gli avvocati siete riportati nella vostra cosa e evidentemente cliccando si ottiene proprio il testo originario della sentenza così come lo andreste a reperire presso la cancelleria dopo estenuanti ricerche e codice quindi ovviamente pensate all'opera di inerettazione fatta su tutte i nomi delle parti per l'articolo 52 del codice della privacy eccetera tutti gli inconvenienti che questa cosa ha provocato anche per evitare che i giornalisti si sbizzarissero a dire chi è il maestro sci che viene coinvolto di più in tutta la provincia di Trento e cose varie e quindi avete questa possibilità ripeto sono se noi clicchiamo solo sul grado il nomenclatore responsabilità civile sono 258 sentenze per il momento di penale ne abbiamo 138 ma ci sono tante altre sentenze che stiamo appunto provvedendo a caricare per cui venite a frequentarci e vedrete che il sito crescerà bene questo ovviamente sarà poi la base la stessa cosa sarà fatta per il volume sull'aria e il volume sull'acqua sempre del trattato oggi senza un dialogo diretto nel internet 2.0 o 3.0 in cui viviamo con chi costruisce un'opera ha bisogno di vederla crescere sul web per cui credo in questo modo potremmo continuare a dialogare noi che studiamo questi temi da un punto di vista accademico e gli operatori professionali che sono così importanti per apprendere e conoscere meglio i fenomeni detto questo io mi fermo qui non so neanche quanto ho parlato ho parlato troppo darei la parola al professor Francesco Morandi che ringrazio per essere qui con noi che ci parla di diritto degli sport del turismo in montagna bene grazie molte per l'invito ho fatto io l'applauso a Umberto Izzo perché vorrei dare prima di iniziare a dirvi poche cose onore al merito io so quanto sia difficile realizzare dei volumi con tanti autori so quanto sia difficile passare dall'idea progetto alla realizzazione di un volume così complesso come quello che oggi viene presentato devo dire che è tutto merito suo adesso senza togliere nulla Leonardo che si è allontanato quindi non può dire niente nel senso che sua è stata l'idea suo e il progetto condiviso con gli altri direttori io sono entrati in un momento successivo sua la proposta di allargare il tema agli altri aspetti aria e acqua e alla fine è sua l'organizzazione del volume e devo dire che il risultato gli fa davvero onore lo posso dire perché il mio nome figura qui ma non figura all'interno quindi diciamo esteticamente dal punto di vista formale io sono presente ma nella istesis cioè nella conoscenza vera dei contenuti del volume non ci sono quindi lo guardo come voi da osservatore esterno e rimango sinceramente molto colpito devo dire che poi dopo parlo di altre cose più terra a terra che la cosa che mi ha colpito nell'iniziativa è questa ci sono tanti contributi su singoli aspetti specifici che riguardano gli sport e il turismo in montagna tanti contributi che riguardano la responsabilità io ho stesso scritto qualcosa nel lontanissimo passato quindi caduta ormai nel dimenticatoio però quello che mancava fino ad oggi poi è arrivato finalmente il volume è una trattazione sistematica dei problemi legati alla responsabilità civile e penale nel turismo in montagna c'è tanti aspetti ricondotti a una sintesi unitaria questo davvero mancava e davvero onore a chi è riuscito a coinvolgere tante persone in un progetto così ambizioso e alla fine vedere pubblicato un volume di queste dimensioni che anche solo fisicamente un po' inibisce la lettura ma insomma è un po' così l'altra cosa che vi volevo dire con riferimento al volume è questo il secondo aspetto che davvero trovo avvincente di questa opera è il livello di dettaglio che è stato raggiunto cioè nei commenti nei contributi negli articoli nelle note a sentenza nelle altre trattazioni ci sono dei riferimenti a precedenti casistica interessanti però io confesso che un livello così puntuale di dettaglio su singoli specifici argomenti raramente l'ho visto in un'opera scientifica e soprattutto in un'opera giuridica noi tendiamo per formazione a parlare dei massimi sistemi a ragionare sui grandi principi però devo dire che qui gli autori si sono davvero sporcati le mani andando a toccare degli elementi di dettaglio che altrove credo non si siano mai mai riscontrati accanto a questi però il vantaggio di aver avuto dei così vari di collaboratori è di avere anche una qualità nell'approfondimento che davvero credo che consenta di rendere la lettura fortemente educativa molto formativa e di avere finalmente un punto di riferimento importante per trattare un tema così troppo spesso distrattato e lasciato un po' in margine della riflessione giuridica quello che vorremmo fare per il futuro lo dico adesso entrando nel merito è che sarebbe bello veramente bello lo dico nel senso proprio poter fare lo stesso per gli altri due grandi ambiti che abbiamo individuato anzi che Umberto ha individuato che sarebbero già Pichelli individuati è lo stesso chi più ha fiuto pigli il merito l'aria e l'acqua io non so se sugli altri temi riusciremo ad avere un livello di dettaglio e di riflessione così puntuale sono temi molto diversificati molto disparati hanno presentano degli aspetti anche molto diversi oltre che dei punti di collegamento davvero mi piacerebbe che riuscissimo a fare una cosa se non identica insomma che almeno tenti di avvicinarsi a questo modello l'ultima riflessione sul trattato poi vi dico due cose che non c'entrano nulla è questa mi è piaciuto molto quello che ha detto Umberto prima cioè ci piacerebbe crescere nel web che è una cosa che secondo me per i ragazzini è bellissima per noi che abbiamo già vissuto una parte significativa della vita un po' più complicata ma che credo rappresenti in realtà una grandissima opportunità per chi si approccia allo sport in montagna e per chi deve praticare dal punto di vista giuridico le norme che riguardano il turismo degli sport in montagna detto questo due riflessioni molto superficiali devo dire perché mi è stato chiesto di dire qualcosa su sport e turismo in generale e di dire qualcosa con riferimento un po' ai temi chiave che interessano il trattato nelle sue tre articolazioni la faccio molto breve perché penso siano cose che conoscete molto meglio di me la prima cosa che vorrei dire è questa il turismo si presenta elemento di scenario e grandezze su cui ragionare come un settore trainante dell'economia nazionale e all'interno di questo da pochi anni veramente molto di recente ci si è accorti che la parte sport se volete allargarla anche la parte wellness benessere riveste un ruolo centrale un ruolo fondamentale il settore del turismo sportivo è insieme al turismo religioso sarà significativo che riguarda la persona è l'unico settore in cui in questi anni si è registrato nonostante le difficoltà economiche del momento una crescita costante a tutti i livelli è cresciuto il livello delle presenze è cresciuto il giro d'affari ci sono delle potenziali idea di crescita ancora molto significative per darvi qualche indicazione anche se non ci sono dati molto affidabili però così avete diciamo un quadro del scenario generale il turismo sportivo rappresenta più o meno il 10% del mercato turistico internazionale quindi all'interno del settore turismo vale pesa il 10% ma è destinato come vi dicevo poco fa a crescere molto di più come vi dicevo è anche il comparto che ha crescita più veloce mentre gli altri gli altri segmenti del turismo registrano segni negativi in questi ultimi due anni il turismo sportivo invece pare che registri ancora un segno positivo molto significativo il trend di crescita per i prossimi anni dal 2012 al 2018 è stimato poi fidatevi gli economisti intorno al 10,5% quindi diciamo il volume d'affari complessivo i ricavi previsti valgono circa 10 billions 10 miliardi di dollari quindi diciamo che si tratta di un'attività sulla quale forse troppo poco si è riflettuto in passato ma sulla quale oggi vale veramente la pena di fare una riflessione più approfondita circa così veniamo a noi un italiano su quattro vuol dire che qua dentro tutto questo settore è interessato un italiano su quattro sceglie la meta della vacanza anche in funzione dell'offerta sportiva questo è un dato veramente significativo che fa capire come la motivazione di viaggio abbia in questi anni assunto un'incidenza sempre maggiore e con riferimento ad alcuni cluster specifici del mercato abbiano un'importanza decisiva più o meno per darvi anche la dimensione allargata ci sono circa 27 milioni di italiani che praticano sport ci sono 20 milioni di amatori 6 milioni e mezzo di dilettanti tra cui anch'io 10 milioni i professionisti i dilettanti sono i tesserati diciamo mentre gli amatori sono quelli che si approcciano all'attività sportiva in maniera assolutamente libera dal punto di vista turistico sportivo si classificano tre tipologie di approccio al mercato un turismo sportivo chiamiamolo leisure che riguarda tutti i praticanti tutti quelli che a livello amatoriale si spostano per partecipare a gare allenamenti stage tornei un turismo sportivo invece business che è la componente sportiva aggiunge la componente professionale lavorativa quindi chi si sposta e fa turismo per ragioni di turismo diciamo sportivo attivo cioè gli atleti professionisti delle federazioni e i dirigenti delle società sportive e chi passivamente assiste alle competizioni agonistiche poi c'è un terzo cluster che è il turismo diciamo sportivo più legato allo spettacolo cioè tutto quel pubblico live che si presenta agli eventi e che arricchisce con la propria presenza il valore di mercato del turismo sportivo internazionale e nazionale nella sostanza se vogliamo dividere così ci facciamo anche l'idea di quali sono i soggetti verso i quali ci rivolgiamo quando pensiamo alle regole e quando pensiamo ai sistemi di responsabilità se vogliamo capire un po' il sistema generale possiamo dividere gli sportivi i turisti sportivi in due grandi gruppi ci sono gli turisti sportivi professionisti e quelli amatoriali primo gruppo ci sono i professionisti sportivi attivi e quelli passivi e allora a seconda di dove collochiamo il turista sportivo lo possiamo collocare tra gli attivi professionisti cioè gli atleti veri e propri che partecipano alle competizioni sportive i professionisti invece passivi che sono il pubblico sportivo e i dirigenti delle società sportive oppure i turisti amatoriali che sono attivi quando praticano sport a livello amatoriale direttantistico o quando assistono pensate agli accompagnatori i familiari i bambini diciamo tutto il movimento che ruota intorno allo spostamento del turista sono gli amatoriali passivi che guardano le manifestazioni allora rispetto a questa grande popolazione di turisti sportivi cioè di sportivi e di turisti legati allo sport si muovono anche le regole giuridiche come sta la situazione italiana stavo pensando di dire che Annaspa in realtà forse avanza pensando alla montagna con un certo affanno con un po' di fiatone per due ordini di ragioni molto diverse la prima ragione come sapete dai dati della stagione invernale diciamo si guarda al futuro con una certa preoccupazione diciamo così sono dati che purtroppo dal Trentino delle altre località montane sono rimbalzati a livello nazionale con grande risalto perché tutti quelli che si occupano di turismo per le stagioni estive fanno le previsioni sulla base di comandata della stagione invernale in montagna una cosa molto elementare molto semplice ma in realtà anche molto vera quindi se la montagna segna poi Trentino perde un po' di più la Lombardia perde un po' di più il Piemonte tiene la Valle d'Aosta quasi pareggio se però il mercato perde circa il 9% di presenze e perde circa il 9% di giro d'affari tutti gli altri operatori del turismo che entrano in campo dalle vacanze pasquali in avanti guardano davvero la stagione con grande preoccupazione la seconda ragione di questo affanno con cui si avanza faticosamente salendo è che l'area rifatta è dovuta anche a ragioni di carattere giuridico esiste cioè quello che possiamo definire una specie di insostenibile pesantezza del diritto nel senso che lo scenario giuridico di fronte al quale ci troviamo è uno scenario veramente abbastanza complicato e deficitario vi do un dato sempre giuso economico così abbiamo un'idea di cosa stiamo parlando con riferimento proprio all'idea che pesa la situazione normativa come un macigno sull'economia del turismo secondo le stime del World Economic Forum sapete che ogni anno viene stimato l'indice di competitività delle destinazioni internazionali il nostro paese non si trova in grandissima forma vengono stimati 139 paesi i top 5 sono la Svizzera la Germania la Francia l'Austria la Svezia tutti europei fateci caso l'Italia si colloca nello scenario internazionale al 27esimo posto messa male si abbastanza però sono dati macro e poi con un leggero miglioramento rispetto ai dati degli anni precedenti che la vedevano invece arrancare al 28esimo quindi abbiamo fatto un passo avanti non so se abbiamo superato il Camerun o la costa d'Avorio però insomma diciamo un piccolo passo è stato fatto rispetto all'Europa l'Italia è al 20esimo posto per quanto riguarda la competitività poi vi dirò perché ve ne parlo è in buona compagnia perché si trova diciamo lo stesso livello di Malta e di Cipro il fatto di trovarsi come Cipro ci dovrebbe come dire preoccupare leggermente ma insomma pazienza però si trova dopo paesi che diciamo turisticamente o sono competitor o non sono fortissimi lasciando i top 5 siamo anche dietro alla Gran Bretagna alla Spagna all'Olanda e anche al Portogallo quindi non benissimo tra gli indicatori positivi non ve li dico gli indicatori negativi invece ci interessano per quale motivo perché uno degli indicatori negativi peggiore è quello che riguarda le Policy Rules and Regulation che sarebbe l'idea leggi e regolamenti per capirci in questa classifica internazionale per quanto riguarda leggi e regolamenti riferiti al settore turismo per quanto interessa a noi turismo e sport l'Italia è all'87esimo posto ci sono dei sottoindicatori che vi così diamo finiamo di dare i numeri siamo al 112esimo posto per quanto riguarda la penetrazione delle imprese straniere siamo pari al Pakistan all'Armenia al Vietnam siamo più o meno lì siamo al 118esimo posto quindi peggioriamo ancora per quanto riguarda le regole giuridiche che consentono favoriscono l'investimento diretto delle imprese nel settore turismo siamo davvero messi male e poi siamo al 119esimo posto sull'indicatore transparency che sarebbe la facilità per le imprese di accedere alle informazioni che riguardano le politiche turistiche nazionali e soprattutto per quanto interessa a noi la possibilità di accedere con chiarezza alle informazioni relative alle regolamentazioni quindi diciamo che lo scenario macro è decisamente torve e preoccupante che cosa lega queste indicazioni al volume sulla montagna e altri volumi sull'aria e sull'acqua tre cose rapidissime il primo tema ve l'ho detto ne avete parlato anche intervenendo con i saluti è la dispersione normativa siamo di fronte alla normativa come dire faticosamente dispersa in tantissime fonti di produzione articolate su diversi livelli si va da leggi formali a regole tecniche a regole sportive a norme sociali diciamo che lo scenario è davvero complicato quindi il primo filone che è il primo fil rouge che segue montagna aria e acqua è quello della dispersione delle norme molto difficile da gestire il secondo filone è quello che riguarda la sicurezza ne avete già parlato poi se ne parla lungamente quindi non dico nulla però il tema sicurezza rischio obblighi di protezione è un tema che attraversa tutte le attività turistico sportive riferite sia alla montagna che all'aria che all'acqua saprete anche cosa un po' estemporanea extra ordinem che il decreto crescita aveva previsto di istituire l'istituzione di un fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna adottandolo di un milione di euro notizia di ieri il fondo è fermo non è stato fatto nulla è tutto fermo lì però diciamo che la prospettiva di un finanziamento di progetti riferiti alla sicurezza secondo le tipologie indicate dal decreto crescita esiste come sempre accade in Italia le norme si fanno poi col tempo e faticosamente verranno applicate il terzo tema oltre a sicurezza e dispersione normativa che pervade tutto il turismo sportivo è quello dell'informazione questo emerge meno dal primo volume emergerà invece in maniera molto più significativa e netta dagli altri volumi il tema informazione quali informazioni chi informa come si informa è in parte emerso anche in alcuni interventi prima è un tema che assumerà per il futuro come è accaduto in altri ordinamenti diversi dal nostro ordinamento un'importanza sempre crescente sempre più decisiva a proposito di informazioni mi ha colpito e chiudo un'informazione informativa interessante che vi invito a leggere sugli autori in appendice al volume c'è un piccolo profilo dell'autore che è molto interessante perché è presente il profilo scientifico e va bene ma anche il profilo legato all'attitudine sportiva allora io vi concludo dicendo che il professore Umberto Izzo dichiara che ama sciare ma non è uno sciatore provetto e io vi consolo dicendo che il professor Izzo non sarà un grande sciatore ma sicuramente è un bravissimo e provetto giuristico grazie e buon lavoro bene mentre ricevo la pessima notizia che il sistema dietro le mie spalle non mi permetterà di presentare il sito che volevo che accompagnasse almeno il mio discorso cedo la parola ad Annibale Salsa che di video non ha bisogno perché ha un eloquio davvero l'ultimo chievo di Socrate Annibale Salsa ci parlerà di l'importanza ho segnato questo tema l'importanza delle regole giuridiche per la fruizione turistica della montagna grazie grazie innanzitutto per l'invito è un'occasione importante per riflettere su questo nostro pianeta montagna è vero che spesso è bistrattato o poco conosciuto devo dire anche appunto che anche come la mia precedente esperienza di presidente nazionale del cubalpino italiano mi ha portato a riflettere su questi temi oltre come studioso di scienze umane e sociali e devo dire che nel corso della militanza CAE attiva anche il lavoro di Vincenzo Torti è stato un po' illuminante è stato un po' un faro che ci ha guidato nel corso degli anni a riflettere sulle problematiche giuridiche allora faccio una premessa io non sono un giurista né sono un operatore del diritto la mia riflessione è una riflessione che viene declinata nello spettro della riflessione antropologico-filosofica innanzitutto la regola ma io mi reminiscenze mi portano a pensare a un filosofo del diritto della scuola di Monaco di formazione della scuola fenomenologica di Monaco che diceva che la regola è l'organizzazione razionale del buon senso credo che questa sia una considerazione una riflessione che va fatta va sempre rifatta anche in presenza di quello che è stata definita un eccesso di ipertrofia legislativa cioè troppe regole troppe norme spesso proprio per il fatto di essere ridondanti trovano difficoltà ad essere applicate ma invece al centro della mia riflessione di studioso e quindi di antropologo filosofo è quello del problema della sicurezza che tra l'altro intercetta anche una problematica che è emersa negli ultimi anni soprattutto nel mondo alpinistico francese relativa al tema della cosiddetta société della securisazione che è un tema che coinvolge i sociologi gli scienziati sociali ma tocca direttamente i frequentatori della montagna gli alpinisti e gli scialpinisti che temono che un eccesso di proliferazione normativa possa in qualche modo porre dei limiti alla loro visione libera della montagna e ho letto il contributo di Leonardo Lenti che fa spesso riferimento al tema della libertà l'alpinista non è vincolato all'infrastrutturazione della montagna l'alpinista porta dentro di sé un'idea di libertà che deve però attenzione perché non è licenza di fare quel che si vuole deve per forza fare i conti con il limite che è iscritto nella natura stessa della montagna qui c'è una confligenza nei confronti della filosofia e gemone della società contemporanea la società contemporanea propone un paradigma un modello che è il modello appunto del no limit noi diciamo spesso i giovani devono andare in montagna la montagna è una maestra del limite lo diceva già Goethe in epoche non sospette e certamente ha un valore educativo pedagogico molto elevato però anche in montagna certe nuove attività di tipo sportivo invitano a impegnarsi in performance che rompono lo schema del limite allora questo pone tutta una serie di problematiche la casistica incidentale soprattutto negli ultimi anni è accresciuta in maniera esponenziale e ha portato molti amministratori dai sindaci dei comuni di montagna a altre autorità a porre limiti significativi nelle proprie legislazioni soprattutto regionali ecco la competenza regionale io ricordo l'organizzazione recente della regione Piemonte che interveniva in maniera pesante nella limitazione e aveva sollevato un'allevata di scudi anche nel mondo degli alpinisti e degli sciarpinisti con delle ricadute peraltro negative a questo turistico perché i sciarpinisti i linguri e i piemontesi andavano cominciavano ad andare in Francia o in Valle d'Aosta c'è anche un profilo di quel tipo però la provocazione che vi posso porre in termini di semantizzazione dei concetti cioè andiamo a capire qual è il significato ora io introduco una dicotomia che non ha il sapore di un bizantinismo formale è la dicotomia tra rischio e pericolo la società della sicurezza totale è la società del rischio per rischio intendiamo che cosa intendiamo una pratica dove tutto deve essere previsto e deve essere prevedibile secondo una modellizzazione di tipo matematico statistico questo è il vero nocciolo del problema il concetto di rischio nasce nelle compagnie di assicurazione di navigazione dell'oide triestino dell'oide adriatico quindi la sua comparsa nella storia semantica della parola ha origine proprio in quel particolare contesto quando le merci dovevano essere assicurate nelle traversate oceaniche questo concetto è stato via via sviluppato e qui c'è tutta un approccio di tipo matematico statistico per cui il rischio è calcolato è calcolabile tutto deve rientrare all'interno di quella che Cartesio definirebbe la ragione calcolante tutto ciò che sta fuori dalla ragione calcolante che poi era l'approccio è vero culturale dell'età premoderna della società premoderna è l'approccio basato invece sulla imprevedibilità e l'uomo premoderno prescientifico come si approcciava nei confronti della imprevedibilità si approcciava attraverso due dispositivi simbolici la magia e la religione allora questo modo di approcciarsi alla una situazione di imprevedibilità è quello che chiamiamo che dobbiamo chiamare correttamente pericolo il pericolo non è sempre calcolabile anzi non è calcolabile perché l'unità di misura del pericolo non è il calcolo cioè non è la modellizzazione matematico statistica allora questa distinzione non è una distinzione bizantina ad uno scavo semantico più rigoroso è una distinzione che ci fa riflettere sul fatto che nella società del calcolo della previsione della matematizzazione in senso cartesiano per cui tutto deve essere prevedibile non dimentichiamo che nel greco classico matematica significa un sapere prevedibile ecco quindi su questa base alla luce della società della sicurizzazione come la chiamano gli amici scienziati sociali francesi il tema del pericolo rappresenta uno scandalo non è ammesso non è ammesso perché nella visione calcolante e razionalizzante matematizzante ciò che sfugge alla prevedibilità è un qualcosa che non è accettabile questo tema è stato motivo di riflessione di una grande studiosa l'antropologo inglese Mary Douglas che ha dato dei contributi nella letteratura delle scienze sociali molto significative appunto sul tema del rischio e del pericolo chiaramente questo problema il fatto che nella società del rischio bisogna sempre individuare un responsabile e un colpevole genera quello che la Mary Douglas chiama l'effetto blaming cioè l'attribuzione di colpa nella orizzonte della pericolosità l'effetto blaming non scatta ora nell'alpinismo tradizionale e quindi non nella rampicata sportiva dove la rampicata sportiva si inquadra concettualmente nella concezione del rischio calcolante e calcolato e quindi infatti la rampicata sportiva è figlia della società della sicurezza della cosiddetta società del rischio le leggi sulla sicurezza 626 482 eccetera eccetera vanno esattamente in quella direzione una parete spittata perfettamente eccetera non è alpinismo classico perché la rampicata sportiva è compatibile con la società del rischio l'alpinismo to cure non è compatibile con la società del rischio e quindi nell'alpinismo vi è sempre un margine di imprevedibilità di fronte al quale appunto bisogna certamente essere prudenti ma non si può pensare di garantire la sicurezza assoluta ecco che allora diventa difficile legiferare nei confronti dell'alpinismo diventa difficile perché qui entrano in gioco più regole etico-morali che non regole giuridiche perché entra in gioco tutto un senso della prudenza certamente della conoscenza del terreno che è fondamentale ma c'è sempre l'area della pericolosità e allora quando accade qualche incidente a professionisti guide ad alpinisti provetti eccetera eccetera si grida sempre lo scandalo e si vuole andare ossessivamente alla ricerca appunto del colpevole io credo che la forbice che separa gli sport è vero agonistici e gli sport legati al modello di sicurizzazione rispetto alle attività di un alpinismo e anche escursionismo praticati secondo una visione premoderna proprio perché la modernizzazione non può recepire tutto quello che è la pratica dell'alpinismo ecco questa forbice questa distinzione diventa estremamente fondamentale qui si apre un'altra dicotomia importante oltre che a quella del rischio e del pericolo quella posta da Freud sul rapporto tra libertà e sicurezza siccome Freud frequentava il Trentino sapete bene a Lavarone e quindi c'erano momenti interessanti di riflessione psicanalittica sull'altopiano cimbro di Lavarone ebbene l'altro grande dilemma della società contemporanea del calcolo e del non limite è proprio quello che sta nel dualismo oppositivo tra libertà e sicurezza quanto più si auspica in termini di libertà tanto più si perde in termini di sicurezza quanto più si avanza sul versante della sicurezza tanto più si arretra sul versante della libertà questo è un tema politologico direi che quanto mai attuale è oggetto della politica ma di riflessione politologica di filosofia della politica e di filosofia del diritto ecco allora secondo me questi sono i tremi forti che un lettore non giurista né operatore del diritto fa su un contributo come questo perché un contributo come questo l'ho letto non è un contributo tecnicistico e tantomeno tecnocratico è un contributo che apre a una riflessione direi criticamente sorvegliata e quindi non succube di modelli di tipo precostituito e dogmatico ma apre a una riflessione con ampi spazi alla riflessione antropologico filosofica con gli spazi che sempre citando Mary Douglas che è stata una grande maestra delle scienze sociali definirei l'apertura di una enclave dissidente grazie grazie bene io ringrazio Nibale Salsa per queste belle parole e vi devo dare atto di un problema il problema tecnico poiché il mio intervento voleva essere anche un modo per promuovere comunque illustrarvi il contenuto del sito mentre parlavo e lo risolveranno nel break c'è un cambiamento di programma iniziamo con in fondo ci sta benissimo perché Nibale Salsa appena ho finito di parlare di alpinismo iniziamo con le relazioni di Leonardo e il professore Leonardo Lenti della facoltà di giustizia di Torino e ordinario di diritto civile presso la facoltà di giustizia di Torino e di Carlo Bona che è professore a contratto presso la facoltà di economia di Trento ed è un collaboratore del nostro gruppo di cerca che hanno curato all'interno del trattato i temi del regole di sicurezza e responsabilità civile nell'alpinismo nell'escursionismo e si divideranno il tema prenderà la parola il professor Lenti e seguirà poi la redazione del professor Bona grazie grazie e incomincio a esporre ricollegandomi a quello che è stato detto sia dall'avvocato Torti sia con molta intensità e brillantezza dal professor Salsa libertà libertà e responsabilità andare in montagna è espressione di un'attività fondamentalmente libera e da questo punto di vista credo che sia molto diverso andare in montagna a fare dell'alpinismo o andare in montagna a sciare sugli impianti e anche a fare il cosiddetto fuori pista salendo con gli impianti si tratta di cose assolutamente diverse a mio modo di vedere il discorso che ha fatto il professor Salsa mi esime dal dire una serie di cose che avevo immaginato di dire perché corrispondono a ciò che lui ha detto e non ho molto da aggiungere di sicuro assistiamo probabilmente a un inizio di una sorta di deriva giudiziaria così è stata definita in Francia deriva giudiziaria che tende a portare l'autorità giudiziaria le controversie davanti al giudice al centro dell'attività della montagna e questo credo che sia una cosa veramente terribile l'altro punto in cui assistiamo a una deriva è quello delle ordinanze per lo più comunali che vietano determinate attività molto spesso queste ordinanze comunali vengono prese semplicemente perché il sindaco ha paura che i giornalisti spieghino che il sindaco stesso non è stato capace di evitare un certo evento negativo o dannoso per cui vengono poi prese delle ordinanze generiche per esempio non si può sciare fuori pista il che magari per quei tre giorni in cui è stata presa l'ordinanza avrebbe un senso ma basterebbe insporre cartelli dicendo guardate che è pericoloso poi l'ordinanza rimane in vigore per un mese due mesi tre mesi e la cosa diventa completamente priva di senso oppure cose che accadono ne è accaduta una abbastanza recentemente in un'area che frequento in Valle d'Aosto è caduta una pietra perché come si sa dalle montagne cadono le pietre il che sembra contraddire al principio secondo il quale si deve andare con sicurezza anche sulle falesie no anche sulle falesie cadono le pietre purtroppo una pietra ha ucciso una persona e il sindaco vicino al paese ha chiuso all'arrampicata l'intera falesia una cosa che non ha alcun senso anche perché di pietre su quella falesia hanno visto cadere tante sempre in condizioni più fortunate questa volta è andata male ma da lì a chiudere un'intera area contro l'altro danni alle attività economiche specificamente organizzate in quell'area è secondo me privo di qualunque senso diceva si diceva della deriva giudiziaria nel passato si può dire che il contenzioso in materia alpinistica sul versante civile era pressoché inesistente abbiamo pochissimi casi fino a un certo numero di anni fa forse quello più noto era un caso accaduto proprio da queste parti che aveva portato a una sentenza del 1978 che era civile per il semplice fatto che la guida che era stata chiamata a risarcire il danno era morta nell'incidente stesso e quindi il profilo penale non c'era poi negli ultimi tempi le cose sono andate cambiando sono andate cambiando anche perché a partire all'incirca da fine anni 70 le scuole di alpinismo hanno incominciato a doversi assicurare per la responsabilità civile è stata una indicazione data dal CAI secondo il quale questa assicurazione era indispensabile perché altrimenti la situazione poteva essere pericolosa l'assicurazione si è diffusa e l'assicurazione ha prodotto un cambiamento di mentalità o almeno ha dato lo spunto il spunto iniziale per un cambiamento di mentalità allora davanti alla guida o all'istruttore di alpinismo che porta una cordata una persona della cordata a un incidente questa persona sapendo che è l'istruttore di alpinismo o la guida che pagherà il danno non si sarebbe mai sognata di chiamarlo in giudizio sapendo che è la compagnia assicuratrice che pagherà il danno questa persona lo chiama in giudizio senza esitare perché perché la compagnia l'esistenza in questo quadro della compagnia di assicurazione stravolge completamente un aspetto secondo me profondamente morale dell'andare in montagna stravolge profondamente l'idea che appunto come diceva il professor Salsa siamo davanti a un pericolo che non è quantizzabile monetizzabile prevedibile ci sono situazioni nelle quali questo non è possibile situazioni vi faccio un esempio pratico sul Monte Bianco versante francese esiste una via molto facile che porta fino in vetta che è la via del Goutet questa via presenta un pericolo enorme nella parte bassa vale a dire per arrivare al rifugio si deve attraversare un canalone in questo canalone cade continuamente di tutto ciò nonostante è la via più frequentata tanto che è stato messo un bel po' di anni fa un cavo d'acciaio teso per cui quando si arriva al passaggio del canalone ci si imbraga ci si attacca al cavo e si corre dopo aver constatato che in quel momento non stia accadendo nulla ora in quel punto lì che cosa vuol dire rischio pericolo quello è un pericolo che non è assolutamente evitabile se non non andando lì mi pare evidente che se un accompagnatore guida o non professionale che sia dice all'accompagnato lo lega in quel modo gli dice che cosa deve fare guarda su vede che in quel momento non sta venendo nulla gli dice vai ha fatto credo tutto quello che doveva è evidente che potrebbe venire giù lo stesso la pietra e quindi provocare un incidente ma tutto questo non credo che possa portare ragionevolmente a responsabilità comunque premesso tutto questo io vi parlerò essenzialmente e brevemente della responsabilità degli accompagnatori sia gli accompagnatori professionali sia gli accompagnatori non professionali della montagna e lascerò invece completamente da parte le relazioni tra compagni di scalata nonché in generale l'alpinismo sportivo di cui parlerà il collega professor Bona il punto fondamentale dell'accompagnamento è che accompagnare significa che c'è necessariamente un divario di capacità tra accompagnante e accompagnato che l'accompagnato ha un affidamento nelle capacità dell'accompagnatore quindi l'accompagnatore a sua volta questo affidamento lo genera e ha un dovere di proteggere l'incolumità dell'accompagnato ha un dovere anche e un potere di dirigere la cordata quindi davanti a una situazione di accompagnamento l'accompagnatore ha un ruolo determinante deve avere gli deve essere riconosciuto il potere di decidere che cosa si fa qualora si presenti in situazioni in cui bisogna prendere delle decisioni complesse ovviamente l'accompagnato l'affidamento dell'accompagnato merita tutela se e in quanto l'accompagnato segua le indicazioni che dà l'accompagnatore ciò premesso questo affidamento può essere di tipi estremamente diversi ci sono parametri che servono per indicare il grado di affidamento e il grado di affidamento a mio modo di vedere è strettamente legato con la questione della responsabilità della colpa vale a dire tanto maggiore è il grado di affidamento che c'è da parte dell'accompagnato nelle capacità dell'accompagnatore e tanto minore è la gravità della colpa che deve essere presente nel comportamento dell'accompagnatore affinché sia considerato responsabile se invece il grado di affidamento è basso perché le capacità dell'accompagnato sono relativamente elevate rispetto a ciò che si fa o c'è poca differenza di capacità fra i due allora la situazione si inverte un altro un altro aspetto importante è quello della qualifica tecnica che eventualmente ha l'accompagnatore a un accompagnatore professionista cioè la guida alpina si chiedono determinate livelli di capacità a un accompagnatore non professionale ma con qualificazioni certificate in qualche modo come gli istruttori nazionali di alpinismo del CAI si chiedono anche qui delle capacità significative ad accompagnatori di tutt'altro genere come i componenti di un gruppetto che organizza una gita sezionale del CAI si chiede tutto un altro livello di capacità e quindi sulla loro attività si pone un grado di affidamento certamente minore un altro aspetto che va messo nel conto è la corrispettività o la gratuità dove abbiamo corrispettività evidentemente si fonda su un grado di affidamento più elevato che dove abbiamo l'assenza di corrispettività come per esempio per gli istruttori del CAI un ultimo punto è quello dell'età quando abbiamo a che fare con minorenni evidentemente dobbiamo avere una attenzione estremamente maggiore e quindi l'affidamento che viene fatto nelle capacità dell'accompagnatore è maggiore i tipi di accompagnatori guida alpine istruttori del CAI o della FASI ma qui andiamo fuori dal mondo alpinistico organizzatori accompagnatori di gite sezionali del CAI organizzatori accompagnatori di gite scoutistiche di gite parrocchiali e su quest'ultimo settore sul quale l'attenzione secondo me è un po' troppo scarsa vorrei sottolineare che abbiamo quasi sempre a che fare con minorenni e quindi abbiamo a che fare con una necessità di attenzione e con un grado di affidamento particolarmente elevato vediamo quali sono i punti che più frequentemente vengono trattati e portano a questioni problemi conflitti prima domanda si applica il 2050 punto interrogativo vale a dire si applica la responsabilità civile per attività pericolosa oppure non si applica se si guarda qualche sentenza sparsa qua e là si dovrebbe dire che si applica se si guarda qualche altra sentenza si dovrebbe dire che non si applica la giurisprudenza non è unanime è molto scarsa quantitativamente e non è unanime vediamo che cosa si può argomentare a favore dell'applicazione o della non applicazione di questa norma tenendo conto che è una norma che accresce fortemente il grado di responsabilità dell'accompagnatore perché l'accompagnatore deve dimostrare di avere fatto ricorso a tutte le misure idonee a evitare il danno quindi un qualche cosa di fortemente oggettivo non a caso questa viene comunemente definita come una responsabilità di tipo oggettivo allora punto primo pericolosa nell'articolo 2050 e pericolo insito inevitabilmente nell'alpinismo non possono essere identificati sono cose completamente diverse cose completamente diverse perché anche se l'alpinismo è un'attività che contiene una parte evidente di pericolosità non è detto che questa pericolosità sia tale da giustificare l'applicazione delle regole del 2050 in particolare come è nato il 2050 è nato essenzialmente davanti a mezzi di trasporto moderni e macchinari industriali moderni è nato prima del codice del 42 e poi nel codice del 42 è stato codificato nell'articolo appunto 2050 tutte situazioni nelle quali si riteneva opportuno cercare di sanzionare in qualche misura colui il quale nell'esercizio di queste attività introduceva un elemento di rischio nella società che prima non c'era che altrimenti non ci sarebbe stato e a questo rischio restavano soggette persone che non potevano sottrarsi a quel rischio o potevano sottrarsi perdendo il posto di lavoro penso ai lavoratori dipendenti di una fabbrica quindi punto essenziale della nascita di questa norma era una situazione dispari tra colui il quale introduce il rischio nella società e coloro i quali si ritrovano a dover subire quel rischio senza concorrere in alcun modo in quell'attività mi pare evidente che l'attività alpinistica e il rapporto tra accompagnatore e accompagnato non corrisponde in alcun modo a questo modello non corrisponde perché perché qui abbiamo persone che insieme vanno incontro a un'attività che contiene elementi di rischio d'altra parte va anche aggiunto che non mi sembra che l'alpinismo possa essere definita un'attività che adopera mezzi pericolosi perché forse lo sci qualche pericolosità come oggetto se arriva dall'alto o la tavola ancora di più ha ma gli attrezzi dello sciatore scusate dell'alpinista non hanno nessuna pericolosità al più la pericolosità può nascere dal fatto che se mi scappa un rinvio mentre sono in parete e finisce sulla testa di qualcuno sotto può diventare pericoloso perché gli può far male ma non deriva dal tipo di oggetto mi sembra quindi che sia il caso di escludere senz'altro l'utilizzazione della categoria della responsabilità per attività pericolose e quindi rientrare nell'alveo di che cosa? nell'alveo del 2043 responsabilità civile generale nell'alveo del 1218 responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione qui bisogna distinguere certamente per quanto riguarda la guida alpina abbiamo un contratto e quindi abbiamo una responsabilità legata ai principi dell'inadempimento su questo direi che non ci possono essere ragionevoli dubbi o incertezze il problema invece si pone molto gravemente molto problematicamente proprio scusate nel caso degli istruttori e in generale degli accompagnatori non professionali qui il contratto non c'è questo è pacifico anche perché se c'è un contratto che l'allievo fa con la scuola CAI è un contratto che fa con la scuola non è un contratto che fa con l'istruttore e allora l'istruttore secondo quello che era direi pacifico fino a fine anni 90 risponde ex articolo 2043 principio della responsabilità civile generale e poi è comparso il mostro se così si può dire è stato inventato il contatto sociale non sto a ricostruire come dove e perché è stato inventato però in ogni caso il contatto sociale è nato nella responsabilità medica ed è stato rapidissimamente esteso alla responsabilità degli insegnanti delle scuole dei vigilatori di asili nido degli insegnanti in scuole materne al di là per il momento non sembra massicciamente presente qua e là compare ma una elaborazione tale per cui si possa dire abbiamo una giurisprudenza solida in quel senso al di fuori di questi campi non c'è e devo dire che qualche anno fa io pensavo che potesse tranquillamente concludersi che non si applicava certo agli istruttori delle scuole di alpinismo poi il fatto che questa categoria sia così duramente consolidata mi ha fatto pensare che per quanta antipatia possa nutrire per questa categoria se vado a guardare che cosa la giurisprudenza mi dice a proposito dell'applicazione di tutto questo a medici e insegnanti devo concludere che anche agli istruttori di alpinismo si dovrebbe ragionevolmente applicare però però è comparso recentemente il decreto Balduzzi o meglio la legge di conversione del decreto Balduzzi la quale legge di conversione con un inserimento come si fanno le leggi adesso che non si capisce se è colposo o doloso da parte del legislatore comunque è pasticciato sempre che cosa ha inserito la menzione del 2044 vale a dire il medico ferma restando dice la responsabilità per 2043 che cosa vuol dire sull'interpretazione di questa norma c'è il caos più totale al momento non ci sono idee chiare ci sono opinioni contrapposte se ne discute perché perché se ha fatto questa operazione la legge e cioè inserire il 2043 per dare una botta conclusiva al contatto sociale allora direi che se salta nel campo medico non può che saltare a catena ovunque e quindi potremmo liberarci di questo mostro se invece come mi sa che succederà si penserà che il legislatore come normalmente accade in questi ultimi anni scrive senza sapere esattamente qual è il significato delle parole che scrive si concluderà che ha detto sì il 2043 ma in realtà si deve intendere che resta la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione per cui si deve intendere che è responsabile per contatto sociale e allora ahimè credo che sia inevitabile l'applicazione della responsabilità per contatto sociale anche al caso degli istruttori di alpinismo penso che il mio tempo sia concluso e quindi vi ringrazio per l'attenzione dunque la parola adesso a Carlo Bona che ha affrontato un tema davvero inedito nel panorama della letteratura giuridica in argomento perché si è occupato dell'arrampicata si è occupato con un approccio estremamente tecnico che coniuga la sua passione smodata per l'arrampicata come praticante e quindi la sua conoscenza tecnica con le sue indiscusse abilità giuridiche a te Carlo grazie della passione smodata a dire la verità per preparare questo discorso ho pensato sulle prime avevo pensato di fare un discorso di questo tipo volevo fare un discorso su due mondi l'arrampicata e l'alpinismo da una parte e il diritto è un discorso che riuscisse a spiegare quanto sono distanti o quanto sono vicini e così via e allora ho pensato vabbè dove lo trovo uno spunto oggigiorno si sa se va su internet cerco un motore di ricerca inserisco la stringa alpinismo e diritto dico troverò qualcosa che parla del rapporto fra i due mondi ho trovato una cosa di questo tipo dalla cengia salire diritto lungo il dietro 25 metri 5 chiodi 6b era la relazione di una via ho pensato fra me e me forse è meglio lasciar perdere con internet e pensare a qualcosa di un attimo più serio allora dunque sventure mie a parte il problema è che l'alpinismo e la rampicata quelli senza accompagnatore sono due mondi che sono stati per lungo tempo molto distanti e che oggigiorno è vero restano per certi versi molto distanti e per altri certi e per altri versi si stanno avvicinando bisognerebbe riuscire in qualche modo a tirare una corda fra questi due mondi camminarci sopra possibilmente senza cadere se si vuole scrivere qualcosa sul tema innanzitutto i due mondi è vero che a tutt'oggi restano abbastanza distanti non avendo la preparazione sociologica del professor Salsa mi limito a qualcosa di un po' più prosaico e vi cito tre film siamo nella settimana del film festival più che tre film non si possono citare allora un primo film dà l'idea perfetta di cos'era l'arrampicata o dell'idea maggioritaria dell'arrampicata fino agli anni 70 è un film che chi di voi è appassionato di montagna conoscerà abbastanza bene è il film gli anni dei lunghi inverni e racconta la storia dei fratelli Rusconi e dei cinque di Val Madrera che salgono in invernale in condizioni assolutamente proibitive delle pareti spaventose salgono i 1200 1300 metri che sono della civetta notare bene che hanno fatto la salita quando nel fondo valle c'erano 25 gradi sotto zero quindi in montagna sono stati 35 salgono il Brenta e così via quel film chi non l'ha visto può andare a vederlo quel film è bello perché perché dà l'idea di cos'era o meglio della concezione maggioritaria dell'alpinismo la sofferenza il freddo l'eroismo e soprattutto lo dice proprio Rusconi in una scena un'idea di un mondo appartato di un mondo distante diverso rispetto alla società ordinario erano due mondi il diritto e l'arrampicata completamente diversi completamente separati non credo che i 5 di Val Madrera passasse nemmeno per l'anticamera del cervello di citare qualcuno per un sasso che cadeva loro in testa anche perché chi vede il film vede delle grandi scariche di tutto sassi neve ghiaccio e tutto in quei tempi l'arrampicata e il diritto erano cose completamente distinte secondo film un altro film famosissimo è il film che ha fatto nascere quasi l'arrampicata il free climbing si chiamava così allora e dopo qualcuno ha iniziato a chiamarlo arrampicata sportiva c'è una gran confusione sulle tassonomie a dir la verità e il film è quello di Edlanger avete presente il biondo francese quello che arrampicava con la fascetta rossa che arrampica al sole in una falesia provenzale si fa una via di 500 metri slegato scalzo e per colmo così si dà una smagliesata ai piedi anche per salire un po' meglio il magnesio quella polvere che si usa per non sudare è tutto il contrario degli anni dei lunghi inverni ed è tutto il contrario di quell'idea dell'arrampicata è tutto il contrario perché gli arrampicatori lì l'ideale è quello di essere gioiosi e non sofferenti è quello di essere scanzonati molto scanzonati in quegli anni e è quello di essere un po' contestatori domanda i due mondi sono vicini il diritto e l'arrampicata ma io direi che in quegli anni erano parecchio distanti nel senso che vedo difficile immaginare Delanger che dopo essere uscito nel film in costume semi-adamitico dal suo furgoncino da figlio dei fiori poi va a fare causa all'amico che gli ha tirato il sasso in testa quella era l'arrampicata degli anni 80 cioè io l'ho visto io non ero figlio dei fiori però voglio dire l'arrampicata quella rampicata l'ho vissuta quindi due mondi fino ad ora separati qual è il film dei giorni nostri? è un film che stanno presentando in questi giorni al film festival si intitola La dura dura è un film che racconta della salita da parte di sciarma e ombra che sono i mostri sacri dell'arrampicata moderna e di una via della via più dura del mondo è un 9b più cioè un grado stratosferico se voi vedete quel film non vedete niente di quello che vedevate negli anni dei lunghi inverni non vedete niente di quello che vedevate nel film di Adelanger vedete due sportivi puri due gimnasti di fatto non c'è di più c'è pura gimnastica anche la musica è tutt'altra Adelanger non ho ben capito se era uno scherzo o cosa danzava tra virgolette sulle note di Bach questi mettono una musica molto forte spinta molto sportiva tra virgolette qual è il problema il problema è che qui i mondi si avvicinano molto perché l'arrampicata diventa uno sport che non è molto diverso non è uno sport molto diverso rispetto a qualsiasi altro sport perché alla dura dura cosa segue seguono i corsi alle elementari ci sono delle scuole che organizzano corsi di arrampicata seguono segue il gran turismo degli arrampicatori della domenica fra virgolette nel senso che voi andate in certe falese dovete fare la coda letteralmente per fare le vie e così via vogliamo definire l'omologazione con un termine terribile vogliamo definire non so come definirla comunque diventa qualcosa di molto più simile al resto dello sport ma questo porta i due mondi inevitabilmente ad avvicinarsi e quindi crescono le esigenze è ovvio anche di una regolamentazione questo per dar conto della distanza fra i due mondi bisogna tendere la corda tra i due mondi come ho detto cosa significa tendere questa corda giuristi e arrampicatori in qualche modo devono incontrarsi perché i giuristi devono rispondere a certe domande di regolazione si sa perfettamente che nelle palestre al coperto c'è sempre più gente che si fa male e c'è sempre più gente che chiede risarcimento all'assicurazione i giuristi qualcosa su questo punto devono dire però nel tendere la corda bisogna conoscere i due mondi qui richiamo un quarto film è l'ultimo richiamo un quarto film che è un film scusate questa è un'opinione mia personalissima pessimo di qualche anno fa di Silvestre Stallone che faceva eh scusate però insomma era pessimo quel film io non so com'è allora Silvestre Stallone ha organizzato sto film non dico il nome tanto ho già detto l'autopera è lo stesso era in assoluto cioè era una cosa incredibile era un campionario dell'inverosimile chi arrampica e guarda quel film vede delle cose e quello dice ma cos'è sta roba incredibili cos'è che c'è di particolare che pochi lo sanno ma le controfigure di quel film erano alcuni fra i migliori arrampicatori del mondo tra le controfigure c'era niente po' di meno per un arrampicatore che Gullich che era allora un mostro sacro dell'arrampicata è la persona che ha fatto il primo 8B+, il primo 8C+, il primo 8C+, e il primo 9A praticamente non so come che tipo di paragoni fare ma era un mostro veramente dell'arrampicata allora uno dice perché questi registi hanno fatto quella roba immonda in un'unica personale pur avendo un cast che comprendeva almeno fra le controfigure e gente che di arrampicata ne sapeva più di chiunque altro per il motivo semplicissimo che i registi hanno voluto in qualche modo dipingere la loro montagna la loro arrampicata non quella degli arrampicatori qual è il problema? il problema è che a volte i giuristi qualche volta dipingono la loro montagna e non dipingono la montagna degli arrampicatori e questa è una cosa che intendiamoci crea qualche serio problema si citava prima l'articolo 2050 io ho letto parecchie volte che l'arrampicata è uno sport estremo e sta storia dello sport estremo siamo tutti estremi siamo tutti fortissimi siamo tutti super uomini l'arrampicata è comunque uno sport estremo sei un bambino di cinque anni che fa una paretina di quattro di due metri e mezzo all'asilo stai facendo sport estremo e se cioè non è cosa che non stanno dicendo qual è il problema? che se io dico è uno sport estremo posso arrivare a due conclusioni diametralmente opposte a scelta o dico è estremo quindi è pericoloso quindi si applica l'articolo 2050 condanniamo tutti o piuttosto dico è estremo quindi si deve applicare l'accettazione del rischio assolviamo tutti insomma non è il modo di tendere la corda fra i due mondi per tendere la corda i due mondi in qualche maniera bisogna conoscerli ed infine qui sono ancora nei tempi ed infine sulla corda il problema è che bisogna in qualche maniera camminarci cioè una volta che si è riuscita a tendere questa corda bisogna camminarci e qui passo dai film ai libri e qui passo dai film ai libri e c'è un bellissimo libro che sempre gli arrampicatori conoscono perfettamente che è un libro di un arrampicatore tedesco che si chiama Reinhard Karl ha scritto questo libro su Yosemite che è una famosa famoso parco nazionale dove c'è un'altrettanto famosa parete e lì racconta del tipo di arrampicata che si svolge e si può stare tranquillamente 20-25 giorni in parete portandosi tutti i vivri armandosi di santa pazienza e metro dopo metro si sale magari si fanno 30 metri in un giorno che sarà mai si va con calma ecco io credo che se si vuole camminare su questa corda pesa fra i due mondi si debbano evitare le tendenze alle generalizzazioni e all'impiantare tra virgolette sul diritto delle tassono scusate sull'arrampicata sull'alpinismo delle tassonomie che ci siamo creati prima ad esempio se considero il tema che è un tema abbastanza di moda adesso almeno strattamente è il tipo di responsabilità che segue al cedimento diciamo così genericamente di un chiodo non posso fare il ragionamento l'arrampicata è uno sport estremo 2050 allora sempre responsabili se c'è del chiodo il problema è una persona sale mette il chiodo a un mese di distanza sale qualcun altro il chiodo esce ok bisogna non dico imparare da Reinhard Carli ma quasi fare le cose campianino con pazienza e quindi distinguere anche a rischio di rompersi la testa però distinguere ipotesi ipotesi perché indubbiamente la rottura di un chiodo in una palestra artificiale è cosa che può capitare non è giustificabile in nessun modo per come la vedo io lì non c'è accettazione del rischio se io vado spendo 10 euro per entrare in una palestrina e farmi la mia vietta di 8 metri io non capisco dove sta l'accettazione del rischio l'alpinismo anche l'alpinismo se io dico vado a fare una via alpinistica c'è del chiodo c'è la responsabilità o no anche qua la risposta non è facile ci sono via alpinistica e via alpinistica ci sono via alpinistica che pretendono di essere sicurissime e via alpinistica che invece no non pretendono di essere sicure tendenzialmente qua non opererà la responsabilità però bisogna distinguere e lo stesso dicasi per onestamente nemmeno la distinzione speed chiodi mi piace più di tanto per il motivo semplicissimo che lo speed è un chiodo cementato che salvo che chi lo mette faccia disastri clamorosi non esce il chiodo è un chiodo a lama che si parte col martello qual è il problema il problema è che ci sono vie a speed ultra rischiose se vado a fare silver geier per dire rischio voli di 40 metri ci sono vie soprattutto in val del sarca che sono chiodate a chiodi normali dove il volo più grosso che posso fare sono 3 metri non posso applicare gli stessi concetti per le une e per le altre quindi dopo vabbè tutti gli aspetti di dettaglio ci sono nel libro però quel che si è cercato di fare è essenzialmente unire i due mondi ma cercando di fare la maggiore attenzione possibile cioè cercando di distinguere fino forse all'esagerazione ma di distinguere tutte le varie ipotesi e categorie proprio per evitare che generalizzazioni impropri portino a delle conclusioni diciamo pure discutibili bene allora questo piccolo inconveniente è un po' condizione del nostro programma direi che possiamo anticipare di 5 minuti la nostra pausa break in maniera tale basteremo veramente 10 minuti per poi avere il tempo di avere un confronto con quanti di voi hanno iniziato a pensare a qualche intervento grazie 10 minuti non di più grazie